La sezione Utenti sito, consente di visualizzare l'elenco completo di tutti gli utenti registrati sul tuo sito. In bianco, sono definiti gli utenti di tipo cliente, ovvero quelli che hanno già effettuato almeno un ordine, e l'anagrafica è già stata inserita in Mexal. In azzurro sono i clienti abilitati ad accedere all'area riservata del sito. L'abilitazione avviene dall'apposito parametro presente sul gestionale, nella videata aggiuntiva PassWeb. In grigio sono gli agenti. All'autenticazione sul sito, un agente viene sempre rediretto all'area riservata, per gestire tutte le funzionalità del B2B. In giallo, vengono rappresentati i contatti. I contatti possono assumere diversi stati, come contatto non attivo, oppure contatto non verificato. Questi stati dipendono dai parametri salvati in Gestione parametri utenti e-commerce, che illustrerò in un video specifico. Selezionando un utente, posso accedere ai suoi dati anagrafici. Questi dati vengono prelevati dal gestionale, e possono essere variati unicamente all'interno di Mexal, oppure dallo stesso cliente, all'interno della pagina Profilo utente. Da questa maschera posso bloccare l'accesso al sito in fase di login. Se invece voglio impedire ad un cliente l'accesso all'area riservata, ma continuare ad effettuare ordini, devo agire da gestionale. Imposto per lo specifico cliente il campo PassWebano. Nella sezione Gruppi è possibile associare il cliente ad uno dei gruppi attualmente definiti su PassWeb. La sezione Attributi permette di visualizzare e gestire i vari attributi cliente. Posso crearli alla voce Utenti. Gestione parametri utenti e-commerce. Gestione attributi Gli attributi Mexal vengono valorizzati da gestionale mediante le videate aggiuntive. Per gli attributi di tipo PassWeb, invece, posso popolare il valore direttamente da questa sezione.